La Procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per sei dei sette ragazzi accusati dello stupro della 19enne palermitana violentata a luglio scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il settimo in minorenne comparirà davanti ai giudici minorili. L'istanza firmata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Laura Vaccaro è stata depositata ieri al GIP. Ora gli indagati potranno decidere se affrontare il giudizio ordinario o scegliere il rito abbreviato. A ottobre la vittima che ha denunciato gli abusi è comparsa in aula per ribadire le accuse ai sette ragazzi che sono ancora tutti detenuti. Il Tribunale del Riesame ha respinto infatti una ad una le loro richieste di scarcerazione. Al GIP la 19enne, per mesi trasferita in una comunità protetta e oggetto di minacce da parte dei parenti degli indagati, ha raccontato di avere incontrato il gruppo alla Vuciria, nel centro storico di avere bevuto e di essersi allontanata con loro raggiungendo il foro italico. Poi la violenza, non erano rapporti consensuali, ha ribadito la ragazza, smettendo la tesi sostenuta dai legali degli imputati.